Molti mi chiedono come liberare spazio su iCloud. Vi mostro come si fa. Per prima cosa andate nell'impostazione dell'iPhone, poi sul vostro nome utente, iCloud, e da qui cercate di capire sul gestisci spazio quali sono i contenuti che occupano più spazio. Nel mio caso, le foto, il backup e WhatsApp. Se volete liberare spazio dal backup, toccate su backup e qui avrete tutti i backup dei vostri iPhone, anche magari vecchi. Scegliete quelli da eliminare, se non vi serve più, e eliminatelo. Se sono le foto quelle che occupano più spazio, beh, dovete fare in questo modo. Usate il vostro PC o il vostro Mac e andate sul sito iCloud.com. Toccate su foto. Selezionate le foto o i video che volete salvare sul vostro computer. Toccate poi su questa icona e inizierà il download. Potete selezionare fino a 1000 foto o video contemporaneamente e poi toccate su questa icona per eliminarle. Ricordatevi di andare anche su eliminati di recente per poi cancellare e svuotare il cestino, altrimenti non recupererete lo spazio.